L'emba di Sdabucconi Il formato weekend nella città di Roma mi ha permesso di seguire in una località prossima alla mia un corso di una qualità estrema facendomi conciliare la vita lavorativa e familiare con quelli che sono gli impegni di uno studio così intenso. Io consiglierei sia ai giovani sia a delle figure più senior come la mia che sono già da molti anni all'interno del mondo del lavoro ha sicuramente dato un'accelerazione a quelle che erano le mie capacità e le mie competenze in ambito lavorativo riuscendo anche a raggiungere dei traguardi e dei risultati per me fino a quel momento inaspettati. Grazie all'emba di Sdabucconi ho potuto apprendere delle tecniche riuscendo a capire in qualsiasi situazione quali benefici poterne trarre, quali vantaggi e quali soluzioni poter trovare per superare al meglio qualsiasi problema. L'emba di Sdabucconi è stata la scelta più giusta che potessi fare per arricchire le mie competenze della vita professionale e progredire in un percorso di carriera che spero non finisca qui.